Matarazzo realizza un film dedicato a Paolo e Francesco e qui possiamo vedere dietro i due protagonisti che sono l'attrice francese Odile Versoix, che era la sorella di Marina Arlandy e Armando Francioli, che vediamo solo di profilo, un set naturale che soprattutto noi in Umbria possiamo facilmente riconoscere, sono le fonti del triturio. Il regista del film Raffaello Matarazzo era il regista dei film popolari, strappalacrime, qualcuno ricorderà il film come...